Ciao da Paolo Serafini, trader professionista da oltre 20 anni. Quello che volevo mostrarti oggi era un po' l'analisi del mercato prima di andare sul video che spero sia interessante che parlerà del volume cluster. Allora abbiamo visto questa settimana i mercati americani salire abbastanza bene, abbiamo visto il derivato tedesco che è arrivato su delle resistenze importanti e quindi da quei livelli lì ha ritrecciato un pochino nel primo pomeriggio di ieri. Nel grafico dell'Elie abbiamo visto che le resistenze importanti sono poste su questi livelli qui, fatalità come hai potuto vedere avevo dato dei segnali su segnalazione PATE, 12.487 è stato il primo livello interessante che era questo livello di resistenza qui, da qui ha ritrecciato circa 20 punti, il derivato tedesco, andiamo a vedere un attimo nel dettaglio che cosa ha fatto il derivato tedesco nella giornata di ieri, proprio su quei livelli lì ha fatto proprio una spike di Alcisa, 12.487, eccolo qui ecco qui, vediamo un attimo dovrebbe essere, insomma su quei livelli lì andiamo a vedere a 5 minuti che cosa ha fatto, su quel livello lì 12.487, eccolo qui eccolo qui 12.487, ha fatto questa spike qui ieri mattina e poi da qui 12.487 ha fatto 12.492 ha salito i 5 punti, da qui ha ritrecciato, quindi ha ritrecciato poco più di 20 punti ha fatto 12.466, quindi si poteva collegare un bel movimento ed era un'operazione che avevo segnalato poco prima dell'apertura dei mercati su segnalazione pattern. Da qui poi il mercato si è consolidato, addirittura ha rotto e si è stabilizzato sopra questi livelli qui ha accelerato e è rimasto sui massimi, sui top fino all'apertura del mercato americano cos'è successo dopo? Con l'apertura del mercato americano è successo che dopo la 15.30 facciamo a vedere l'SP500, dopo la 15.30 c'è stato un bel livello, il livello era 2.680 come puoi vedere su questi livelli qui il mercato americano, vediamo se mi sta ingranando la piattaforma, vediamo un attimo se si sblocca, 2.680 era il livello molto interessante che si era stabilizzato il prezzo su questi livelli qui il mercato americano, ha rotto questo livello, è andato 2.680.50 quindi due tic sopra questa fase di 3D range e da questo livello qui poi abbiamo visto che il mercato americano ha ritrecciato, andiamo a vedere eccolo qui, questo era il livello interessante, 2.680, ha rotto 2.680, quindi ha fatto 2.680.50 e qui è stato un BHS su una fase di 3D range, quindi era importante magari mettersi short sotto questo livello qui, questo è capitato proprio subito dopo le 15.30, subito dopo l'apertura dei mercati americani, quindi da lì ha fatto questa piccola accelerazione rialzista e lì poi si è nebulito e ha accelerato giù molto bene, ha tentato un piccolo pullback a rialzo, ha sbattuto due o tre volte su queste, sul move up, dopo sembrava che si stabilizzassero i prezzi sopra quest'area qui e non ce l'ha fatta e poi ha fatto questa bella accelerazione fino alle 21.30, ha recuperato poi i valori fino a chiusura delle 23 fino alla chiusura qui. Stessa cosa ha fatto il derivato tedesco, il derivato tedesco ha fatto grosso modo la stessa cosa, abbiamo visto che ha fatto questa forte accelerazione quindi da 12.535 è arrivato fino a 12.00410 quindi ha ritracciato di oltre 100 punti, ha fatto veramente un ribasso molto importante. Su questi livelli gli istituzionali hanno iniziato a comprare, qui ha fatto un bel pullback, sembrava che volesse ritornare sul VAP, non ci è riuscito, ha fatto il ritracciamento quindi qui ha fatto un 1-2-3 un po' particolare, ha fatto un 1-2-3, 1-2-3 particolare, qui abbiamo un caliceto, un caliceto che aveva rimbalzato proprio dove gli istituzionali avevano comprato a ridosso dei minimi nella prima fase di accelerazione, quindi ha tentato questo pullback, non ci è riuscito, poi ha rotto tutti i minimi e poi ha fatto il consumo dalle 21.30, ha rispecchiato l'andatura del mercato americano, poi da lì è risalito quindi ha chiuso anche abbastanza bene, ha recuperato circa una sessantina di punti dai minimi. Ti auguro un buon fine di settimana da Paolo Serafini e ci vediamo la prossima settimana, ti lascio col video del Colomio Cluster, la cosa che mi raccomando è di investire su te stesso, sia dal punto di vista del computer, della linea internet e anche della piattaforma importante, anche dal punto di vista di un mentor di andare a farti insegnare qualcosa da qualcuno che riesce a farti vedere dei risultati, perché se non hai dei risultati, se hai qualcuno che ti insegna e non hai dei risultati importanti alla fine non impari nulla, quindi cerca di trovarti qualcuno che sia in grado di dimostrarti qualcosa di importante per vedere che hai dei risultati che è profittevole e profittevole tutti i giorni, quindi da queste persone riuscirai a imparare abbastanza velocemente, oppure cerca di concentrati te sul mercato, di capire i mercati e le dinamiche dei mercati attraverso l'osservazione dei mercati tutti i giorni. Ti auguro un buon fine di settimana, ciao da Paolo Serafini. Bene, siamo finalmente arrivati al terzo video e alla conclusione del volume cluster per spiegarti leggermente, in maniera chiara, quello che avviene sul mercato. Naturalmente bisogna contestualizzare i volumi, devi contestualizzare i volumi su ogni strumento finanziario, quali sono i livelli di volume, quindi si vuole un po' di esperienza per capire quali sono i volumi più importanti su determinati livelli di prezzo su ogni strumento finanziario. Naturalmente io spiego esattamente ai miei lievi come ci si deve comportarci sul mercato su determinati livelli, la cosa più fondamentale da guardare. Naturalmente è meglio sempre avere due o tre grafici, avere magari un grafico a due minuti, avere un grafico magari a 60 minuti per vedere dove sono i livelli più interessanti, vedere anche sul volume profile quello che avviene sul mercato su determinati livelli, andare a contestualizzare il tutto e andare a vedere anche con un altro filtro call, andare a vedere cosa stanno scambiando su determinati livelli. Se li scambiano in un acquisto passivo, se c'è un acquisto aggressivo, se c'è una vendita passiva oppure se c'è una vendita aggressiva da parte degli istituzionali. Quindi devi prestare attenzione, quindi contestualizzare il tutto con parecchie analisi, quindi devi avere un attimo di esperienza sul mercato. Non è che adesso io ti ho spiegato in questi video, che ti ho spiegato un attimo cosa scambiano gli operatori su determinati livelli. Devi contestualizzare il tutto con tantissime altre tecniche, quindi devi cercare di avere magari determinate tecniche su determinati livelli, quindi devi cercare di essere abbastanza veloce sul mercato. Chiaramente il mercato non ti dà tantissimo tempo da pensare, ok? Hai una frazione di secondi su determinati livelli per pensare, quindi devi cercare di capire che devi essere veloce e cliccare sul mouse e avere le idee chiare quando il mercato arriva su determinati livelli. Perché altrimenti se non hai già chiaro una strategia operativa importante che ti ha dato magari dei risultati profittevoli sul tempo, chiaramente è inutile mettere in piedi un'operazione. Quindi devi avere una strategia importante che ti abbia dato dei profitti costanti sul tempo, quindi hai visto che magari 7, 8, 10 operazioni ti vanno bene su 10, quindi 8 operazioni su 10 ti vanno bene, anche magari 4 operazioni su 10 ti vanno bene, ma sai che le 4 operazioni su 10 che ti vanno bene, la tua percentuale rischio reward è magari 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, chiaramente avendo 3 tic di stop e avendo un guadagno di 9 tic, di 12 tic, chiaramente anche se ne sbagli 6 su 10, chiaramente la tua profittabilità sarà molto importante. Quindi devi contestualizzare le cose, mi raccomando, io ti ho dato delle spiegazioni, però devi cercare te di contestualizzare le cose in maniera abbastanza importante, quindi devi fare mare un po' di demo e vedere se le cose che hai visto te sul mercato possono essere applicate tutti i giorni sugli strumenti finanziari. Ogni strumento finanziario, come ho detto, si comporta in maniera diversa rispetto all'altro, quindi presta attenzione a come si comportano i vari strumenti finanziari che vai a tradare. Allora, siamo arrivati all'ultima spiegazione, abbiamo parlato appunto, nella prima spiegazione abbiamo parlato di delta, abbiamo parlato di volume, quindi abbiamo parlato di volume che su ogni candela viene visualizzato il volume, poi ci sono altre varie cose che si possono inserire qui sul volume profile, no, sul volume profile, scusami, sul footprint, sul raster, come vogliamo chiamarlo, e ci sono parecchie tecniche. Un'altra tecnica che gli operatori cercano di guardare quando stanno facendo questo tipo di operatività è magari la differenza che c'è tra il delta, guardano il delta, se è negativo naturalmente vuol dire che la barra dovrebbe andare giù, ma se magari il delta è positivo e la barra, se il delta è negativo e la barra è positiva, vuol dire che magari, cioè se il delta è negativo vuol dire che c'è stata tante vendite, magari meno 5, meno 10, vuol dire che ci sono state tante vendite, chiaramente non è possibile che la nostra candela sia positiva, ok? Adesso ve la spiego nel dettaglio, nella prossima slide, andiamo a vedere un attimo. Quindi qui abbiamo, io ho fatto questo esempio qui, qui siamo sempre sul 6, sull'euro dollaro, abbiamo visto che c'è un delta negativo, meno 5, andiamo nel dettaglio, cos'è sto meno 5. meno 5, allora vuol dire che sulla sinistra la differenza tra, abbiamo detto, tra compratori e venditori è negativa, quindi se la differenza tra compratori e negativa e la barra è positiva, mi dà una divergenza, mi dà una divergenza positiva mentre ci sono tante vendite, ok? Questa è una tecnica abbastanza importante e naturalmente io la contestualizzo con altre cose per cercare di portarmi a avere una percentuale molto alta a mio favore, quindi cerco di avere magari una percentuale del 90, 98, 99% a mio favore, quindi vado a vedere, a contestualizzare il tutto con altre dinamiche che spiego durante i corsi, però diciamo che questa tecnica qui è abbastanza buona perché vediamo che magari con delta negativo e abbiamo la barra positiva, molto probabilmente vuol dire che, anche se hanno venduto, vuol dire che si mettevano in denaro parecchi operatori, quindi hanno cercato di comprare. Andiamo a vedere nel dettaglio questa operazione qui. Andiamo a vedere che qui abbiamo visto che hanno comprato 9 contratti, ho 1 più 8 fa 9, 14, 17, 19, 26, 28, 32, quindi sulla destra sono stati comprati 32 contratti. Sulla sinistra sono stati venduti 2 contratti, più 11 fa 13, 13, 21, 30, 37, quindi 37 sulla sinistra, 32 sulla destra. 37, 37 meno 32 mi dà meno 5, ok? Vuol dire che sono stati venduti 5 contratti in più rispetto a quello che è stato comprato, ok? Naturalmente qualche operatore evidentemente si è messo qui, si è messo qui sopra, hanno comprato, quindi si sono messi in denaro, anche se qualcuno li colpiva, ma non li ne fregava niente, si sono messi in denaro, quindi hanno trascinato sul titolo, quindi si sono messi in denaro, si sono fatti vendere le azioni e quindi abbiamo un delta che è negativo. Delta negativo, la barra positiva. Molto probabilmente qui potrebbe essere il caso che comprando il mercato potrebbe andare su. Quindi qui abbiamo visto che avendo un delta negativo con la barra positiva, c'è stata una divergenza, in questo caso su questa divergenza il mercato è iniziato ad andare su. Poi vediamo che c'è un'altra divergenza, naturalmente la divergenza dobbiamo guardarla al contrario, nella parte alta del grafico. Abbiamo una divergenza che è positiva, vedete che c'è positività, se abbiamo la divergenza negativa, quindi negativa con la barra positiva nella parte sotto, devi guardare che deve essere positiva con la barra negativa nella parte sopra. Quindi qua abbiamo una divergenza, perché la barra è negativa e il delta è positivo, vuol dire che hanno comprato di più di quello che hanno venduto. Quindi essendo un delta positivo il mercato potrebbe anche scendere, potrebbe scendere perché abbiamo la barra che è negativa, dopo non ho guardato cosa stava facendo il mercato in quel momento lì, però volevo mostrarti il delta negativo con la barra positiva, quindi abbiamo una divergenza. Su questa divergenza diciamo che parecchi operatori ci guardano, ci guardano questa cosa qui. Non è una cosa che mi fa impazzire, perché io la contestualizzo con altre cose, però è qualcosa di importante che parecchi operatori guardano. Quindi ti invito a guardare questa cosa qui, che è molto importante, quindi ti ho fatto vedere con il profile, ti ho fatto vedere il volume cluster, cosa stanno facendo su determinati livelli. Queste righe blu mi fanno vedere dove c'è stata la concentrazione di volume su ogni barra, quindi su questa barra qui abbiamo visto che è una barra che ha 10 volumi, 10 volumi, 10 range, quindi su 10 range, quindi su tutte le barre a 10 range abbiamo visto che c'è stata una concentrazione di volume, su questa maggior concentrazione di volume, sul livello che abbiamo visto 18 contratti rispetto agli altri che sono nettamente più bassi. Ogni barra mi indica proprio, con questa riga blu mi indica, la maggiore concentrazione di volume su determinati livelli. spero che la mia spiegazione ti sia piaciuta, le spiegazioni che ho fatto sia sull'onimo profile che sull'onimo cluster. È una maniera diversa di vedere il mercato, naturalmente è un faro che viene acceso all'interno della candela, quindi andiamo a vedere proprio col microscopio quello che stanno facendo. Naturalmente ai miei allievi cerco di insegnare, di trasmettere delle cose importanti, di far vedere magari quello che stanno facendo esattamente gli operatori istituzionali. Ho cercato di mostrarti a grandi linee quello che viene sul mercato, spero che tu cerchi di contestualizzare il tutto, che non ti butti sul mercato velocemente tramite le mie spiegazioni, cerchi di contestualizzare, spero che ti stiano servite queste mie spiegazioni, ci sono state d'aiuto naturalmente per vedere gli operatori istituzionali cosa stanno facendo, l'unica maniera è questa, cercare di capire quello che stanno facendo, ma ci sono dei numeri, bisogna capire all'interno dei numeri quello che stanno facendo, naturalmente io lavorando sui numeri ho cercato di vedere quello che stanno facendo sia sulle azioni, sia sui BTP e sia sui future, quindi è facile identificare quello che stanno facendo gli istituzionali, l'unica maniera per cercare di capire quello che stanno facendo e quindi cerca di studiare su questa cosa qui perché è una cosa molto importante, quindi ho cercato di portare la tua attenzione su delle dinamiche di mercato che altrimenti non avresti visto e ti sei concentrato magari solo sulla barra, la barra ti indica una cosa, questo ti indica un'altra cosa, il goal in profile ti indica un'altra cosa, uno cluster ti indica un'altra, i volumi, abbiamo visto che i volumi verticali e i volumi orizzontali ti indicano delle cose, qui ti indicano esattamente, i volumi che stanno, ti indica proprio l'attività del mercato degli istituzionali, quello che stanno facendo, quindi è una cosa veramente innovativa e una cosa che guardano in maniera specifica tantissimi tassissimi trader e naturalmente si cerca di lavorare, di studiare su questa via qui, che è la via più corretta di studiare. Io vedo tantissimi magari persone che insegnano con tantissimi indicatori, io per carità non ho niente in contatto con gli indicatori, sulle mie analisi non li seguo, ma questo riguarda quello che faccio io, so che guadagno costantemente tutti i giorni, quindi cerco di lavorare nella mia maniera, ma se qualcuno trova magari di guadagnare con 10.000 indicatori, quello che fanno le medie mobile e tutto, che continuano a lavorare in quella maniera lì, naturalmente io da parte mia ritengo che sia una maniera molto difficile di guadagnare qualcosa, guardando solo le barre, guardando solo Mario sui time frame e tutto, ma guardare la concentrazione di volumi all'interno magari di determinate cose, di determinati livelli, chiaramente vado a vedere quello che stanno facendo gli istituzionali. e avendo lavorato, tra l'altro avendo fatto circa 5 milioni di eseguiti, 5 milioni di eseguiti dal 99 fino ad oggi, naturalmente riesco a capire come si muovono gli istituzionali, quello che stanno facendo, i trucchetti che usano, e naturalmente questa è una piccola parte, spero ti sia stata d'aiuto questa cosa qui, però è una piccola parte, rispetto a quelle potenzialità che si possono avere magari imparando tantissime altre cose che si possono sviluppare all'interno di queste candelle all'interno di magari di piccoli tranelli che traccia l'istituzionale e chiaramente si riesce a capire in maniera importante quello che stanno facendo. Naturalmente una volta che riesci a capire il tranello che ti fa l'istituzionale, alle volte mi viene da rire perché dico guarda che tranello, io aspetto proprio il tranello perché so come si comportano esattamente gli istituzionali, quindi naturalmente ho la percentuale a mio favore, so chiaramente quello che stanno facendo su determinati livelli, quindi la mia percentuale magari di riuscita che potrebbe essere di un 60-70% la porto a ridosso del 98-99% perché capisco esattamente quello che stanno facendo gli istituzionali. Naturalmente il mio stop non sarà più uno stop dinamico, non sarà più uno stop che metterò sotto un minimo, sotto un massimo della candela, ma andrò a mettere uno stop sotto il livello di prezzo dove ho visto che stavano comprando loro. Quindi se io metto uno stop sotto il livello dove stanno comprando loro e se vedo che magari a 13 euro stanno facendo un tranello lo portano 12-99 a 13 euro e hanno ricominciato a ricomprarlo, chiaramente il mio stop non sarà magari se il minimo era 12-96 non lo metterò a 12-95 quindi con 6-7 tic di stop cercherò di comprare dove comprano loro e un tic di 2 sotto il livello dove hanno comprato loro cercherò di inserire il mio stop. Naturalmente vedi che lo stop sarà molto più ridotto, avrò lo stop di 2-3 tic, magari qualcuno mi dice ma è lo stop lì, per forza, ho lo stop sotto il livello dove stava comprando l'istituzionale se non ho lo stop è sotto il minimo non vado ad aspettare perché se l'istituzionale non compra più su un determinato livello che senso ha che io vada a mettermi lo stop 5-6 tic più sotto? Vado a mettere lo stop sotto il livello dove ho visto che stava comprando l'istituzionale. Però per arrivare a questi livelli bisogna capire esattamente le dinamiche del book e capire come funzionano. Comunque chiaramente con il volume cluster e con il profile abbiamo un'idea abbastanza chiara di quello che stanno facendo l'istituzionale di qual è la concentrazione dei volumi dove stanno facendo loro la loro attività principale. Spero che il video ti sia piaciuto casomai se scrivo un commento sul profilo Facebook quando metterò il profilo Facebook mi piacerebbe che qualcuno magari interagisse un po' di più sul profilo Facebook che scrivesse un po' di più magari su qualche articolo che faccio che mi faccia qualche domanda in modo tale da interagire un po' di più con voi. Vi auguro un buon proseguimento e ti auguro e spero che questa questa spiegazione ti sia piaciuta e ti auguro buon trading in bocca al lupo e un arrivederci alla prossima volta. Un cordiale abbraccio Ciao!